Ciao a tutti e benvenuti su Megisoflotus. Prima di iniziare questo nuovo fantastico video vi ricordo che potete iscrivervi al canale, lasciare un like, commentare se vi va e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Vi ricordo anche che potete supportare il nostro progetto facendo un abbonamento su YouTube a partire da 0,99 centesimi al mese o su Twitch con Amazon Prime Video, l'avete gratuito. Ricordatevi solo di rinnovarlo di mese in mese. Vi ricordo anche il nostro sponsor Fantasiastore.it, uno degli store online più forniti d'Italia, spedizioni in 24-48 ore, codice sconto Lotus 5 per avere 5% di sconto sui prodotti non scontati. Di cosa parliamo oggi? Parliamo dei migliori prodotti sigillati su cui si può fare del value, allora dei box da aprire diciamo. Ne ho cercati parecchi, non ne ho trovati così tanti e questo ci fa capire secondo me che rispetto al passato il paradigma è completamente cambiato. In passato quando una persona prendeva un prodotto sigillato di un bel set lo teneva chiuso, saliva negli anni. Adesso questa cosa non succede quasi per nessun prodotto, veramente sono pochissimi quelli che spaicano e sono moltissimi quelli che rimangono stabili o crollano. Master 25, Modern Horizon no, vabbè, Modern Horizon dipende, Modern Master, Eternal Master eccetera, tutti quei set che erano premium qualche anno fa e avevano prospettive ottime di salita con la situazione di quel periodo storico. Si sono rivelati poi dei set in realtà bruttini da tenere e non hanno poi avuto uno spike. Spesso sono rimasti stabili e in alcuni casi sono addirittura scesi. Quindi persone che hanno tenuto quei prodotti per 3, 4, 5, 6 anni si sono ritrovati con dei soldi investiti e un prodotto che vale meno rispetto a quando l'hanno comprato loro. Cioè, veramente una follia. Ripeto, questo è dovuto alla stampa eccessiva di prodotto e alla stampa eccessiva di ristampe. Se ovviamente le carte che ci sono là dentro vengono ristampate il doppio rispetto al passato, è ovvio che quel prodotto non potrà salire. Ricordatevi sempre che nel 90% dei casi il prodotto chiuso ha il valore di ciò che tu puoi trovare dentro. Io ho visto un sacco di sognatori nella mia vita che dicevano, no, ma questo è un prodotto che è uscito da anni, quindi deve valere tanto. No, non funziona così. La maggior parte dei prodotti, ripeto, il 90%, se dentro non puoi trovare niente, il fatto che tu abbia un prodotto sealed di quel tipo non aumenta di un gran che il valore. Perché ciò che c'è dentro non vale niente, o vale poco, o vale quello comunque che è giusto che valga il prodotto sigillato. Quindi questo è. Poi quei prodotti invece molto vecchi, questa cosa un po' cambia. Tendenzialmente c'è un premium nel prezzo per la vecchiaia, diciamo, del prodotto. Allora, partiamo dal primo prodotto. Anzi, vi segnalo un paio di cose prima. Allora, Lord of the Ring, non vi rompo le palle più parlando di questo set, ma vi voglio solo far vedere che quello che dicevamo qualche tempo fa, queste sono sempre inserzioni finte, ve lo ripeto. Guardate, si vuole fare semplicemente pubblicità al suo sito e devo dire che non ho capito perché MKM non lo banni. O forse lo ha già bannato, ma rifai gli account. Perché è veramente una rottura di palle che noi dobbiamo leggere 488 qua. Ma cosa succede per tutti i box, quando poi la realtà è 850? E quindi è veramente, veramente senza senso. Poi non tutti sono esperti, quindi qualcuno che legge 488 magari ci crede pure che vale quel prezzo. Allora, ne parlavamo giusto in qualche live di un mese fa, un mese e mezzo fa. Dicevamo che avrebbe raggiunto i 1000 euro e ne abbiamo parlato quando stava a 500, quindi quando stava alla metà e guardate qua, c'è arrivato. Perché questo è falso, i primi due sono dalla Svizzera con la Dogana, i primi senza Dogana sono 950 euro a box. Quindi siamo arrivati. Ma era facile prevederlo. Non mi stupirei se comunque arrivasse a questa cifra qua e poi si stabilizzasse lì. Fate conto che ovviamente quando stava a 500-600 euro, trovare persone che avessero voglia e soldi di investire in quel prodotto a quel prezzo era più facile rispetto ad ora che sta a 1000 euro. 1000 euro è veramente tanto e anche se magari il prodotto li vale, è difficile trovare persone che vogliono investire quei soldi. Altra cosa, Secret Layer MagicCon Festival Box è ancora disponibile. E questo secondo me è una bella cosa perché c'è più gente che può acquistarla. Ovviamente qualcuno potrà dire, ma allora non è così limitato come si poteva pensare. In realtà secondo me semplicemente è il periodo che siamo al 25 agosto, quindi un periodo di vacanze, di ritorno dalle vacanze dove la gente comunque ragazzi spende una marea di soldi in altre cose che non sono Magic. Per fortuna, per esempio in Italia quasi tutti vanno in vacanza, tantissima gente va in vacanza, soprattutto i giocatori di Magic. Perché se giochi a Magic vuol dire già che hai dei soldi in più da investire, altrimenti non puoi giocare a Magic praticamente. Se non Pauper e poche altre cose. Ma anche Pauper comunque deve avere un pochino di soldi. Comunque se una persona ha altre spese, va in vacanza eccetera, e alla fine dice, cavolo, ce li ho 280 euro da investire? Non si sa. Sappiate che non ve li fanno pagare subito, ve li fanno pagare a ottobre, e questo magari tanti hanno il dubbio. Facendo un calcolo a ribasso, alla fine viene fuori che ci sono, c'è il Secret Layer e questo promo pack in regalo. Alla fine il value è questo, ok? Perché se noi contiamo un prezzo sostenibile per il Mystery 2, ci può stare 170 euro. Se contiamo il prezzo di queste collector box, arriviamo a più o meno 270, 265, 280. Quindi siamo là. Quello che è il regalo è questo cofanetto, che a me piace molto. C'è Omnath, c'è Bo, Bo, Orvar, Orvar. E poi altre tre creature, e poi c'è questo qua dove comunque c'è Ponder, c'è Sword to Ploucher, una bellissima pianura con loto, quindi veramente è un buon prodotto. Se avete possibilità di prenderlo, prendetelo perché non ve ne pentirete, e soprattutto questi qua chissà se e quando saranno disponibili per la vendita. Però non ho detto che non è un prodotto disponibile per la vendita, vedremo in futuro. Eccolo qua, festival, l'avevo già aperto. Allora, primo box di cui vi parlo è Caldeim Draft Box. Perché ve ne parlo? Ce ne sono una marea in russo, a pochissimo, veramente un prezzo bassissimo. Ma perché è così basso questo prezzo? Allora, prima vi faccio due parole sul russo. Il russo è una lingua difficile da vendere, questo ve lo dico. Soprattutto difficile da vendere se volete dargli un plus. Soprattutto le carte regular, in russo, se voi le mettete al 30-40% in più rispetto alla versione inglese, italiano, eccetera, difficilmente riuscite a venderle. È proprio una vendita lentissima. Quindi di base si devono contare più o meno, per la maggior parte, come carte nelle lingue normali. Mentre per le foil, soprattutto per le rare limitiche, c'è un plus importante. Fate conto che un Valky, per esempio, alternative, in russo, foil, è una carta difficilissima da trovare. Così come il Drago d'Oro è difficilissima da trovare, sono mitiche, bisognerebbe aprire una marea di box per trovarli. Oggettivamente, comprare box a 65, 62, 66, 70 euro è un ottimo prezzo. Vi faccio vedere le carte più care dell'espansione. Abbiamo come prima carta Voringlex, che però ho paura che verrà ristampato in a little time, in poco tempo. Quindi è una carta che vale tanto, però vedremo se in futuro varrà così tanto. Poi ci sono una serie di mitiche rare sui 7-10 euro. Ezeka, Golspan, Birgi, i Pathway, Orvar, Angegate Pathway, Valky, un altro Pathway. E poi abbiamo Tosky, Orvar, eccetera. Quindi abbiamo un buon numero di rare che valgono abbastanza, perché vedete abbiamo Birgi, i Pathway, poi abbiamo Tosky, che comunque è una carta che è richiesta, e poi l'Angelo e Tergrid. E poi abbiamo delle mitiche che hanno un bel valore. Ma quello su cui vi voglio far concentrare di più è che ci sono per esempio le terre innevate. E adesso, per esempio, le isole, le montagne che in Pauper si giocano, perché c'è UR, Scred, eccetera, sono richieste, hanno un valore. Quindi in questa espansione qua abbiamo sia un buon numero di rare mitiche che hanno un senso, e abbiamo anche delle comuni che ci possono portare del guadagno. Vi faccio vedere le altre. Adesso Fiordo Instabile, qua lo dà a 10 centesimi. Io, per esempio, sono riuscito a far fuori un set in russo forse a 14, non mi ricordo, a 12. Comunque a 3 euro l'uno, più o meno. Queste sono le comuni, non c'è tantissimissimo. Però, per esempio, anche Behold the Multiverse in russo foil vale tanto. La Sentinella è una carta che si gioca. E poi, ripeto, ci sono le terre basi. Le terre basi danno un plus veramente buono, perché già solo con quelle fate una parte del valore. Quindi, di base, questo secondo me è un ottimo box da aprire, se vi volete divertire ad aprire un box random. Vi apro la prossima espansione. Eccola qua, Carlo Manor. Ne abbiamo già parlato in altri video, ne riparliamo in questo. Vedete come queste sono sempre inserzioni finte dello stesso account. Mannaggia lui. Però il prezzo di questo collector è 140 euro in inglese. Quindi, veramente un ottimo prezzo per un collector box, no? E voi direte, ma cosa c'è da aprire? Eccolo qua. Allora, aspettate. Eccolo qua. Ve le apro qua. Non vi ho aperto le versioni extra. Sappiate che nei collector potete aprire le versioni speciali, che sono più rare, valgono di più, eccetera. Vi faccio vedere anche il box normale, che in inglese sta a 85, 89, 90, 95 euro. In inglese trovate delle copie anche dall'Italia, tra l'altro, a queste cifre, se non mi sbaglio. Sì, qua c'è una dall'Italia in inglese. E quindi anche questo lo consiglio. Sia play box che collector box. Perché? Perché ci sono le 10 terre Surveiland. Vedete quanto cavolo è salita la blu-nera. La blu-nera, guardate che cazzo di prezzo sta, ragazzi. Stiamo parlando di praticamente 100 euro set. Vi faccio vedere anche la versione alternativa. Eccola qua. E la versione foil alternativa, siamo sui 35-40 euro. Che ha ancora un buon prezzo per la quotazione attuale della carta. Tutte le Surveiland ciclicamente saliranno. Soprattutto finché rimarranno in standard. Fuori dallo standard ci potrebbe essere una discesa. È normale. Ma finché stanno in standard, facciamo conto, aperta parentesi, che si giocano in Modern, si possono giocare in Legacy, si possono giocare in Pioneer, si giocano in Commander. Sono delle terre veramente multiformato e richieste. Quindi saliranno ciclicamente. La bianco-rossa sta salendo perché? Perché è richiesta per i Modern, per Boros Energy. La blu-nera è richiesta per standard. E poi magari però verrà giocato più bianco-blu e blu-rosso. Quindi saliranno queste. La verde-nera, per esempio, sta salendo. Perché? Perché in standard c'è anche verde-nero. Quindi questo set è un set che aprirlo non è così male. Il prezzo dei box è basso. Quindi viene riconosciuto come un set di basso valore. Ma avendo 10 rare come queste, che sono ottime rare anche come prospettive future, può essere una buona scelta aprirla. Poi abbiamo Bale Ripper, Delney, eccolo qua. E poi abbiamo, vabbè, Archdroid, Charm, Layline. Queste sono tutte carte con potenziale che però sono veramente basse in questo momento. Secondo me qualcuna di queste salirà, ne sono abbastanza certo. Quindi basta tenere lì e non venderle adesso e potete fare dell'extra value. Vi faccio vedere il prossimo set. È Zendical Rising. Eccolo qua. Abbiamo anche qua in giapponese e in russo dei prezzi veramente bassi. Vedete? 70, 65, 75. Prezzi veramente bassi per un box di Magic. Dentro ogni box di Zendical Rising c'è una Baia Box, una busta chiusa, che può contenere una di queste carte qua. Eccole qua. Le Zendical Expedition. Quindi voi comprando un box a 75 euro avete inclusa una di queste carte qua. Io ho già fatto il conto e la media di valore per le versioni in italiano e inglese è di 20 euro. Vuol dire che ogni Baia Box che aprite ha un valore intrinseco in teoria di 20 euro medio. Poi voi potete aprire Lansing Tomb che vale 60, 70, 80, 90. Come potete aprire una carta che vale 5, 10 euro. Però la media è sui 20. Però i box, i primi box sono in russo. Se voi guardate, cercate queste carte in russo praticamente o non ci sono sul mercato o comunque viene dato un premium. Quindi secondo me è un buon investimento aprire quei box perché potete aprire una di queste carte qua o di più se aprite più box avendo un premium sul prezzo. Quindi magari la media non è più 20 ma è 27, capito? 28 mediamente. Quindi fate conto che se voi pagate un box 75 scalate già 28 mediamente della buy a box e poi dovete riempire il resto della spesa con il resto che aprite. Cosa potete aprire? Abbiamo due mitiche da 15 o più euro che sono Seagate Restoration e Agadim Awakening che sono due carte che potrebbero essere ristampate ma hanno sono molto forti perché sono delle terre modali spell. In Commander pagare le tre vite non è pesante e gli effetti che hanno sono veramente forti. quindi sono mitiche che comunque saranno richieste. Poi abbiamo Omnath che viene ristampato un po' un po' ovunque e ha ricevuto delle limitazioni nel tempo ma abbiamo poi 5 pathway quindi abbiamo 5 rare che sono delle terre che si giocano che sono richieste. Vedete? Abbiamo i pathway blu rosso blu nero e poi gli altri che sono oggettivamente più brutti. Sono 6 pathway qua 6 pathway scusatemi 6 pathway. Poi abbiamo un'altra mitica 5 euro tutte queste robe qua. Vedete? la cosa interessante è che anche a livello di non comuni questo set vi faccio vedere ha avuto lo spike di Malachy Rebirth ultimamente. Anche Balughead è richiesta e anche Ruin Crabb è richiesto. Quindi abbiamo 3 non comuni che comunque tutte le copie che apriamo riusciamo a venderle perché sono carte richieste in questo momento. Sulle comuni vi faccio vedere ecco qua c'è qualcosa ma per adesso ve lo apro c'è qualcosa ma per adesso è molto poco. Clean Scene Wildfire si gioca è richiesto ma difficilmente speccherà e anche Feed the Swarm adesso viene giocato in Pauper però difficilmente speccherà. Ci sono le terre full art anche da conteggiare quelle comunque qualcosa si possono vendere e le foglie come vi dicevo in russo acquisiscono un plus importante soprattutto le mitiche pensate aprire un Seagate Restoration un Agadim foglio russo ma anche un Omnath foglio russo giapponese eccetera ha un plus non male anche a Shia tutte queste carte che sono per Commander hanno un plus ottimo. Allora prossimo box aspettate eccolo qua Strix Saver adesso ve ne faccio vedere due che sono possono essere convenienti ma sono dei progetti di box che si potrebbero aprire in futuro diciamo che i primi tre sono quelli un po' più dove potete racimolare un po' di value questi due sono più delle segnalazioni per il futuro o se vi piace il set se vi piacciono le carte che ci sono dentro Strix Saver ma la versione in giapponese del set box perché nella versione giapponese potete aprire queste carte qua queste versioni qua invece nella versione in inglese italiano di qualsiasi altra lingua non potete aprire nei set box queste carte qua aprite solo la versione normale che è questa qua ok nelle lingue rispettive quindi se aprite box in inglese e in inglese eccetera quindi il mio consiglio è se dovete comprare dei box prendeteli nella versione giapponese come vedete potete aprire un demonic tutor da 100 euro l'altro sta sui 50 poi c'è deferist protection a 37 l'altra sta a 30 tutore demoniaco anche qui 28 scusatemi questa era acid scusatemi non potete aprire la acid questa 25 eccetera tante carte sono salite ultimamente ce ne sono veramente poche copie vedete il counter spell a 20 il patto corrotto a 20 l'ordine naturale a 20 il rito oscuro più di 20 cioè sono proprio tante carte di valore tante mitiche e comunque le potete aprire non dico con facilità però si aprono abbastanza vedete ve ne apro altre beh guardate effimerate stiamo parlando di 15 euro per effimerate così ed è una rara se non sbaglio quindi non è neanche mitica approach the second sun 14 euro quindi guardate quante carte hanno valore fulmine da spada spighe brainstorm veramente tante tra rare mitiche quasi tutte sono care perché sono piacciono molto poi c'è la versione invece quella col disegno normale che sta a meno guardate faithless looting 8 euro mitraglie 8 euro spirale 8 euro zenith blu 8 euro guardate quante sono veramente veramente tantissime channel 7 euro sono salite quasi tutte le rare le mitiche veramente tantissimo invece nel box normale nelle carte del set trovate veramente poco questo è da dire ma carte con potenziale futuro quindi professoressa onyx belledros magma opus wandering archaic sono tante carte con prospettive future decenti però valgono guardate veramente po' qualche non comune che vale solo the equation expressive iteration e qualcos'altro vabbè poi qua vedete sempre i minimi poi in realtà se le aprite stanno a di più ovviamente l'altro set che vi segnalo è baldur's gate il draft box come vedete potete acquistarlo sui 100 euro in inglese o 80 in giapponese perché ve lo segnalo perché se giocate per esempio pauper ci sono tante carte giocabili e tante carte con potenziale e vi raccomando di prendere il draft box e non il set box perché il draft box ha molte più comuni e le comuni in questo set potete fare tanto valore sommandolo c'è un draft box tante comuni che vengono richieste giocate in qualche archetipo di pauper poi vabbè le carte più di valore sono l'anset copper dragon a 45 e poi tante carte da 10-12 euro vedete c'è il ciclo delle terre delle terre per multiplayer eccole qua e boh delle mitiche interessanti tra l'altro diverse carte sono salite nell'ultimo periodo la naughty load ship sta salendo già ira in salita costante perché è una carta forte con i token quindi tutte le strategie token la giocano e monster manual anche qui è una carta che è specata nei mesi scorsi eccetera qualcosa potrebbe ancora salire qualcosa potrebbe essere ristampato vi ripeto che gli ultimi due box se volete apriteli se rispecchiano le vostre esigenze altrimenti lasciate perdere perché si può fare del value ma sono più rischiosi rispetto ai primi tre che vi ho fatto vedere se vi è piaciuto il video lasciate un like iscrivetevi al canale commentate se vi va e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati ciao ragazzi grazie a tutti